Tre scosse di terremoto lievi ma avvertite bene nella zona est della città di Arezzo. All'alba di giovedì gli aretini sono stati svegliati nuovamente dal terremoto e dalla paura. Le scosse non sarebbero collegate a quelle dei giorni scorsi, l'epicentro è stato proprio alle porte della città. La prima scossa si sarebbe registrata alle 5.22 di magnetudo 2.8 sulla scala Richtel e le successive altre due pochi minuti dopo di magnetudo 2.7. L'epicentro ha 4,5 chilometri di profondità in zona San Zeno. Nessun danno ma il centralino dei vigili del fuoco ha squillato a lungo. Non ci sarebbe dunque alcuna analogia fra la sequenza di scosse di giovedì mattina in Toscana e quella che sta martoriando Lazio, Umbria e Marche. Ad affermarlo è stato il sismologo Salvatore Mazza dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Sono terremoti, a detto, provocati da sistemi di faglie distanti e diversi. Fra queste non c'è alcuna connessione diretta. Intanto, in seguito alle scosse di terremoto dei giorni scorsi di giovedì mattina, l'amministrazione comunale di Arezzo ha comunicato che sono in corso le verifiche sugli edifici pubblici, in primis le scuole. Non ci sono situazioni di emergenza, ha spiegato il sindaco Alessandro Glinelli. I tecnici stanno svolgendo le opportune verifiche e non si rilevano danni strutturali.